L'identità e la cultura di un popolo sono strettamente legate alla sua storia ed è proprio diffondendola che si può essere apprezzati in quanto uomini, popolo, città. Io sono l'anima del museo e vi porterò con me ad esplorarlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.